Sì, praticamente dopo la salita ho visto che il loro vantaggio era circa sul minuto, ma ho messo a tirare un mio compagno, però davanti andavano veramente forti e non siamo riusciti a prenderli. Messo a tirare un tuo compagno chi? Ravasi, che è un giovane stagiaire. Ha fatto un buon lavoro, ma davanti andavano veramente forti. No, stamattina siamo partiti che dovevo cercare di tenere duro e avere qualche uomo nel finale, ma la cosa era un po' impegnativa e gli altri compagni sono persi.